Sala giunta del comune di Cremona, il maestro Matteo Fedeli, accompagnato al piano da Andrea Carcano, suona due violini stradivari, il cremonese e il vesuvio. Sono le prove per il concerto in programma il 2 luglio al Ponchieli di Cremona. Una serata organizzata a favore dell'associazione italiana Sclerosi Multipla, in cui Fedeli suonerà non due ma ben quattro stradivari, interpretazione storica delle quattro stagioni di Astor Piazzolla, una con ogni strumento. Sandars, re di Prussia, Vesuvio e Cremonese 1715, tutti in una sera nelle mani del maestro Fedeli. L'evento è uno di quelli da segnarsi sul calendario. I biglietti sono quasi tutti esauriti, tanto che si pensa a una seconda data in autunno.